Allora, ciao, iniziamo un altro percorso, vediamo che cos'è PowerPoint e che cos'è una presentazione multimediale. Allora, quello che vediamo, vediamo un programma che si chiama PowerPoint, ok? Vedete? Sì, sì. PowerPoint. Ok? PowerPoint salva i suoi file nel formato ppx. Quindi PowerPoint salva i suoi file nel formato pptx. PowerPoint è questo, poi lo vediamo. PowerPoint. Ed è un programma di presentazioni multimediali. È un programma di presentazioni multimediali, cioè con PowerPoint ne facciamo delle diapositive. Beh, poi vediamo che cosa significa. Quindi, quello che noi faremo per un po' di lezioni si chiama PowerPoint. È un programma sempre della Microsoft. Salva i suoi file nel formato pptx. Cioè, noi salviamo il file, lui aggiunge .pptx. È un programma di presentazioni multimediali e fa delle diapositive. Allora, per lanciare PowerPoint basta scrivere PowerPoint. Basta scrivere PowerPoint. Vedete? Io ho il PowerPoint 2016. E parte questa schermata. Parte questa schermata di PowerPoint. Chiedo scusa, ma c'è troppo rimuardo. Eh, spegnete un po' i microfoni gentilmente. Ok. Partendo PowerPoint, ecco qua. Questa è la schermata. Vedete che c'è presentazione vuota. Io ci clicco sopra. Questa è una diapositiva. Diapositiva. Fare clic per inserire il titolo. Clicco e scrivo. Per esempio, corso di informatica. E sotto scrivo. Excel base, per esempio. Questa è una diapositiva. Come faccio a vederla? Da tastiera io posso fare F5. F5. Vedete? Questa è una diapositiva. Con PowerPoint. La vedete? Sì. Ok. Faccio ESC da tastiera e ritorno qua. C'è anche qua sotto, vedete? Presentazione. Io clicco ed ecco la diapositiva. Quindi PowerPoint è un programma dove noi creiamo delle diapositive. Su queste diapositive, come vedete, io posso mettere del testo. Ok. Ma ne posso fare anche un'altra. Vedete? Qua c'è una diapositiva. Qua c'è nuova diapositiva. Clicco. E posso scegliere diversi modelli. Prendo questa diapositiva titolo. Vedete? Qua c'è un altro. Potrei scrivere programma corso. E qua scrivere qualcos'altro. Programma corso. Vedi il sito. Ok? Sono due diapositive. Una e due. Se io voglio vederle, o faccio qua presentazione. Quindi questa è la prima diapositiva. Poi clicco. Questa è la seconda diapositiva. Per uscire, posso fare, o clicco ancora, vedete, clicco e ritorno ancora, o posso fare ESC da tastiera, il tasto in alto a sinistra, quello più in alto. Quindi queste sono due diapositive. Diapositiva 1, diapositiva 2. Per salvarle, sempre qua. File, sempre la stessa cosa. Salva con nome. Sempre la stessa cosa. File, salva con nome. Come l'abbiamo visto tantissime volte. Quindi, torno sulla prima. Prima diapositiva. Seconda diapositiva. Prima diapositiva. Se volessi correggere, clicco. Mi metto qua. Backspace, quello sopra l'invio. Cancello. Corso di. Cucina. Cucina. Piatti unici. Ok. Posso selezionare. E vedete com'era il word qua. Posso mettere il grassetto. Vedete che c'è il grassetto? Seleziono il corsivo. Vedete che c'è il corsivo? Posso mettere sottolineato. Vedete che c'è il sottolineato? Posso mettere. Vediamo qualcosa. L'ombreggiatura al testo. Vedete è un po' più ombreggiato. Ombreggiato. Potrei qua aumentare il carattere. Oppure lo posso fare anche qua che aumento il carattere. Ok. Posso abbassare il carattere. Quindi. Alzare il carattere. Abbassare il carattere. Oppure lo scrivo qua. 50. E scrivo 50. E batto in bio. E' come il word ragazzi. Ok. Quindi la stessa cosa faccio qua. Seleziono e incomincio a ingrandire. Ecco. Corso di cucina piatti unici. Se lo volessi vedere. Vengo qua sotto. Presentazione. Ed ecco qua la mia presentazione. ESC e ritorno nell'ambiente. Ritorno nel software. Questo è la diapositiva 1. Diapositiva 2. La stessa cosa. Seleziono. Qua cambio il colore. Vado a cambiare il colore. Mettiamo un po' un colore verde. Speranza. Bruttissimo. Seleziono. Troppo brutto questo colore. Rosso. Metto un po' di grassetto. E aumento un po' il carattere. La stessa cosa qua. Vado ad aumentare il carattere. Apro qua. Qua ci sono i colori. Ci sono i colori. metto un altro colore. Questo colore qua. Un bel blu. Questa è la prima diapositiva. Questa è la seconda diapositiva. Se la volessi cancellare. Destro. Vedete che c'è. Elimina diapositiva. Elimina diapositiva. Quindi mi metto qua. Destro col mouse. Elimina diapositiva. E quindi vado. Vedete che non c'è più. Vado ad eliminare la diapositiva. Ne voglio inserire un'altra. Qua. Nuova diapositiva. Vedete. Nel momento in cui. Faccio nuova diapositiva. Mi viene fuori. Una diapositiva. Con. Già. Delle cose all'interno. Degli oggetti. Che io posso cancellare. Guardate. Mi metto sul bordo. Sul bordo. Faccio. Cance da tastiera. Bordo. Cance da tastiera. Questa è una diapositiva. Vuota. Per metterci qualcosa dentro. Cambio. Pannello. Inserisci. Inserisci. Forme. Oppure qua. Casella di testo. È uguale. Clicco. E questa è la mia casella di testo. Dove ci scrivo all'interno. Corso. A distanza. Seleziono. Qua posso centrare. Vedete. Centro. E qua è sempre lo stesso discorso di prima. Mi metto un bel colore. Quindi. Qua in inserisci. Casella di testo. Posso. Clicco. Vedete. Tengo premuto. E mi faccio un'altra casella di testo. Corso. A distanza. Scrivo bra. Bra. Da. Maggio. A. Giugno. Seleziono. Lo posso centrare. Lo centro. Aumento il carattere. Poi guardate. Mi metto qua. Tengo premuto. Vedete. Mi metto sul bordo. Tengo premuto. Lo piazzo qua. Posso fare anche così. Ne metto un'altra. Oppure posso fare così. Metto da capo. O così ancora. Ne metto un'altra. Guardate. Inserisci. Casella di testo. E un'altra la metto qua. CP. Vengo qua. Seleziono. Centro. Aumento il carattere. Guardate che qua lo posso anche un po' ruotare così. Oppure anche al contrario. Posso. Ecco. Vado a ridurre le dimensioni. Mi metto sul bordo. Tengo premuto. Lo posso mettere qua. Questo. Mi metto sul bordo. Lo sposto un po' più qua. Quindi. Questo qua. Lo potrei mettere qua. Potremmo allargarlo. Come vedete è possibile sempre inserire tutta una serie di forme. L'abbiamo visto anche col Word. Le forme. Potrei mettere per esempio. Potrei mettere qua una stella. Clicco. E. Destro. Modifica testo. Scrivere all'interno. Bra. È uguale sempre la stessa cosa. Home. Home. Vado a. Ingrandire il carattere. Come faccio a vederle? Allora. Questa è la prima. Questa è la seconda. Prima. Vado sempre qua sotto. Qua. Presentazione. Prima diapositiva. Seconda diapositiva. Quindi. È un modo per far vedere. Per parlarci sopra. Per mostrare delle cose. Clicco ancora. Ed esco. Prima diapositiva. Seconda. Le posso anche spostare. Guardate. Tengo premuto. E la porto sopra. Questa è la prima. Questa è la seconda. Tengo premuto. La porto sopra. E quindi questa ritorna alla prima. Se volessi cancellare qualcosa. Clicco. E faccio. Cancio da tastiera. Clicco. Faccio. Cancio da tastiera. Vengo qua. Clicco. Lo posso. Allora. Mi metto qua. Mi metto sul bordo. Lo sposto. Questo lo metto un po' più qua. Così. Tengo premuto. Aspettate. Lo sposto qua. Questo lo sposto qua. Tengo premuto. Poi. Vado in inserisci. Forme. E prendo. Ecco. Prendo premuto. E facciamo una cosa del genere. E ci scrivo dentro. Per scrivere. Destro. Qua. Mi metto sul bordo. Destro. Modifica testo. E scrivo. Prezzi. Bassi. Prezzi bassi. Home. E vado. Ad ingrandire il carattere. Clicclic. Vedete che posso. Clicclic. Posso fare qua anche colori diversi. Questo qua lo faccio. Piatti. Home. Colore. Lo faccio questo colore. Qua. E unici. Tengo. Lo faccio rosso. Solo la C. La vado a fare un po' più grande. Guardate. Colore rosso. Potrei giustamente fare al contrario. Questo lo piazzo qua. Questo lo piazzo. Potrei fare così. Potrei fare anche una cosa di questo tipo. Poi vedremo come dare. Poi vedremo come portare avanti. Quindi. Per vederlo. Potrei fare qua. Visualizza presentazione. E quindi è la mia diapositiva. Clicco. Clicco. E ritorno di nuovo nell'ambiente. Quindi queste si chiamano diapositive. Prima diapositiva. Seconda diapositiva. Il programma si chiama PowerPoint. Ed è un programma della Microsoft. Fa parte del pacchetto Office. Con Word, Excel e PowerPoint. L'abbiamo detto più volte. Qua si salva. File. Salva col nome. E qua c'è stampa. Se io volessi stampare le diapositive. Stampa. Vedete? Questa è la stampa. Prima diapositiva. Seconda diapositiva. Prima e seconda. Quindi potrei stampare le mie diapositive. Torno indietro. Quindi questo è il programma PowerPoint. Un programma dove è possibile costruire delle diapositive. Mettiamo insieme delle diapositive. E abbiamo una presentazione multimediale. Che possiamo far vedere. È possibile proiettarla. È possibile tenerla sul PC. E quindi è un qualcosa per mettere insieme del testo, immagini, video. Poi vedremo come fare. Ok? Allora, per adesso ci fermiamo qua.